Inizierà a marzo del 2020 il processo penale per l'abbattimento nel 2014 del VLOMH 17 della Malaysia Airlines nei cieli dell'Ucraina. Intanto i magistrati inquirenti dei Paesi Bassi hanno incriminato per omicidio quattro sospetti e spiccato mandati di cattura internazionali. Si tratta dell'Ucraino Leonid Karchenko, che si troverebbe al momento nel suo paese, e di tre russi, Sergei Dubinsky, Igor Ghirchine e Oleg Pulatov. L'incidente costò la vita a 298 persone, per lo più cittadini dei Paesi Bassi, in viaggio da Amsterdam a Kuala Lumpur.